6 anni fa i soldi Chiodi li mandò altrove, i soldi che il governo aveva previsto, quindi i soldi sono arrivati 3 anni fa. Una volta che arrivano i soldi poi cominciano tutta la fase delle progettazioni, alcune di queste scuole sono già la centrale unica di committenza per gli appalti. Dopodiché abbiamo preso atto che nonostante quello che dice la legge le progettazioni vanno fatte all'interno, la Comune del Lago non è in condizione di poter seguire la ricostruzione pubblica con i geometri interni o gli ingegneri, cioè è una cosa impossibile, per cui stiamo dando adesso tutta una serie di progettazioni all'esterno, poi con tutti i tempi, come immaginare adesso su alcune strutture anche adesso si è aggiunta la validazione del progetto e così via. Comunque, contemporaneamente, dato che non tutti i soldi ci sono pronti e disponibili, abbiamo deciso di estornare i soldi che erano previsti per rifare in questo momento la scuola di Via Educa di Abruzza, scuola elementare, abbiamo preferito disperderli sulla periferia. Questo perché? Perché in questo momento, mentre per il centro storico, credo che abbiamo ancora due o tre anni in cui la domanda di scuola è meno pressante, noi vorremmo intanto realizzare le scuole nuove lì dove già ci sono le persone, o anzi addirittura si sono aggiunti col progetto CAS e altri nuclei familiari. Dopodiché è strategico in questo momento il lavoro che stiamo facendo su Sassa, dove vorremmo fare il primo Civic Center, vuole dire un posto dove vanno anche gli adulti e che sia scuola materna, elementare e media. La stessa cosa partirà a Scaglioni, a Paganica, dove abbiamo dato la progettazione della grande nuova scuola media e poi stiamo comunque lavorando sul discorso del grande polo all'ex Casal Marossi. Da notare, la Maria del Ventri finalmente parte perché era tutto fatto, ma l'USA, vale a dire la Lancia Raielli, blocco tutto perché disse, ma chi l'ha detto che si deve demolire e ricominciamo da capo. Il punto è che siamo partiti con degli atti formali che avete già visto, ci sono quattro delibere di giunta che vanno in quella direzione e quindi ci sono i soldi, c'è la progettazione, come dicevamo prima ci sono già delle ipotesi di gare pronte, quindi io penso che all'inizio dell'anno prossimo vorremmo partire tranquillamente con alcune scuole più. Possiamo dire che certamente partiremo con la scuola di Arischia, probabilmente partiremo con la scuola di Paganica e per il momento mi sento di dire queste due, ci saranno anche altre sorprese, però non voglio sbilanciarmi più di tanto. Vi posso garantire che nell'ambito dell'anno prossimo ci sarà un cantiere complessivo, soprattutto per quanto riguarda la periferia e le frazioni, di edilizia scolastica ripartita. Sì, allora la strategia è quella che si diceva anche prima, cioè noi pensiamo innanzitutto di andare per step. In questo momento è importante partire lì dove c'è la possibilità di partire anche sotto un profilo di presenza sul territorio, di persone, di giovani e di cittadini e quindi mi riferisco alle frazioni, in particolar modo Paganica e Rischia, che sono le frazioni più importanti. Abbiamo un'idea di progettazione partecipata per quanto riguarda Sassa, che è un'altra delle realtà più importanti del nostro territorio, dove lì stiamo avviando sempre attraverso una delibera di giunta un percorso di progettazione partecipata che troverà proprio sfogo, diciamo, attuazione nei prossimi giorni. Ci rivolgeremo a dei professionisti di chiara fama nazionale che attraverso gli incontri con i cittadini e con la collaborazione di professionisti locali e soprattutto di studenti universitari e dell'università stessa, si arriverà a creare questo progetto di una scuola nella periferia della città, nel lato ovest e segnatamente nella frazione di Sassa. Questa è una cosa molto importante su cui noi puntiamo molto. Quanti soldi nel totale, Assessore? Nel totale attualmente abbiamo 19 milioni e 600 mila euro che sono stati oggetto della deliberazione che abbiamo portato in giunta venerdì, ma complessivamente parliamo di circa 40 milioni di euro.